Lo cercavano dalla sera di lunedì quando il gommone su cui era andato a pesca si è rovesciato nel canale Fratta a Merlara. Purtroppo però il corpo senza vita di un rumeno di 27 anni è stato trovato martedì mattina alle 11 dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza insieme ai colleghi di Este. Il piccolo mezzo su cui si trovava insieme ad un amico che si è salvato è stato trovato a circa un chilometro e mezzo dal luogo dell'incidente, a 4 chilometri il corpo senza vita del 27enne residente a Bovolone. Sul posto anche il personale medico del SUEM che ha constatato la morte e i carabinieri.